L'estate del 2023 è caratterizzata dagli scontrini controversi con clienti che condividono sui social media ricevute dei bar, ristoranti e lidi con addebiti extra per piccoli servizi. Tra questi spicca il caso di un lido del Cilento, provincia di Salerno, che ha applicato un supplemento di 50 centesimi per il ghiaccio nelle bibite. Durante questa calda estate, contraddistinta da polemiche sul caro vita, gli episodi di questo genere sono diventati frequenti. Il cliente, seguendo il consueto schema, ha fotografato lo scontrino e lo ha condiviso online, scatenando una nuova discussione. Quest'ultimo caso proviene da uno stabilimento balneare a Santa Marino, una frazione di Policastro, Bussentino. Lo scontrino mostra un addebito aggiuntivo di 50 centesimi sotto la voce delle bevande con la dicitura ghiaccio.